Alla... Ema, non è male... No, non si entra qua... Eh? Si entra... No, per lì le... Non sento... Non sento... Non sento... Non sento... Non sento... Non sento... Se ci sono... E' unesensi... Che torna... E' un incontro. Che... Ma aveva... quindi... Can... Questa viva... C'è veramente... In front... grazie a tutti 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 Grazie a tutti